Ciao a tutti, andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di maggio 2024. Voglio tirare anche due tarocchi per vedere un po' come butterà il mese di maggio. Allora, qui mi sono volati il 2 di bastoni capovolto e il matto. Allora, sicuramente il mese di maggio, che vedrà fra le altre cose Mercurio e Marte camminare nel segno focoso, Stium dell'Ariete e Venere per tutto il mese di maggio camminerà invece nel segno del toro. Qui ci sono diversi passaggi, diversi cambiamenti interessanti. I tarocchi me lo confermano. Allora, sarà senz'altro un mese ricco di colpi di scena, di situazioni che si sbrigano, nodi appunto che si sciolgono, situazioni che cambiano, improvvisate, novità, nuove conoscenze, nuovi amori. Si potrebbe vivere una qualche avventura, cioè Venere in toro è proprio in casa sua e nel suo segno zodiacale. Quindi lavora proprio al suo massimo, no? La potremo sfruttare proprio al massimo. Darà il meglio di sé. Non solo Venere in toro è in casa sua, ma anche Marte in Ariete, che per tutto il mese di maggio appunto camminerà in questo segno zodiacale, è in casa sua. Quindi è proprio nel suo seme, nel suo segno. Quindi potrà esprimersi al meglio. Quindi sia l'energia maschile che quella femminile, Venere e Marte appunto, daranno il meglio di sé. Mercurio è in mezzo, messaggero degli idee che si muove. Quindi il risultato è questo. Novità assolutamente interessanti. Qui ci possono essere dei viaggi, delle soddisfazioni che possono arrivare, dei tentennamenti che arriveranno al suo termine. Quindi se siamo un po' in ballo con questo Mercurio retrogrado che ha camminato in modo retrogrado in aprile, che ce ne ha combinate di tutti i colori. Qui se sei lì che stai tentennando ad un qualcosa, tu vedrai che quella decisione tu la riuscirai a prendere. Il cielo del mese come cambiamenti, insomma, sono questi quelli più importanti. E naturalmente anche il sole camminerà in toro, poi passerà in gemelli. Mercurio che cammina per la metà del mese di maggio in ariete, poi passerà in toro. Venere in toro che entrerà in gemelli. E poi c'è un cambiamento. Questo sì, questo è importante. Il cambiamento di segno di Giove. Giove che sta camminando da un anno circa nel segno di terra del toro, 25-26 maggio, entrerà nel segno dei gemelli. E lì cambieranno molti scenari, in special modo proprio per il segno dell'ariete, ma in special modo per i segni proprio di aria. Va bene? Ma lo vedremo per il tuo segno zodiacale. Allora, gemelli, te e tu c'hai un mese che è tutta una garanzia. Allora, Plufone che è entrato in acquario, che è favoloso per te. Ora, poi ti racconto, ti dico tutto insieme. Quindi Plufone dalla sua. Poi tu c'hai Mercurio e Marte dall'ariete nel mese di maggio. Mercurio fino alla metà del mese. Invece Marte per tutto maggio ti rimane dall'ariete. Quindi tu hai Plufone sestile a Marte, Trigone sestile al tuo segno. Quindi ora ti spiego cosa vuol dire, ma tu lo devi sentire la gioia che sta arrivando. Quindi sono due aspetti, credimi, stupendi e favolosi. Poi Giove Urano nel Toro a metà mesi, cioè verso la fine, via, dal 25 di maggio. In poi, rullo, rullo, rullo di tamburi. Giove, pianeta della gioia, benessere, fortuna, felicità, denaro, che più ne ha più ne metta, entra nel tuo segno zodiacale. E lì, stium, fai l'artificio. Quindi qui tu vai incontro ad un periodo di un anno, perché poi Giove rimane un anno, nel segno dei gemelli, assolutamente fantastico. È vero, per onor di cronaca, lo devo dire, che ci sono Saturno e Nettuno dal segno dei pesci. Quindi qui, in special modo, nel mese di maggio, la seconda decade cade sotto la quadratura di Saturno. Qui un neo, un puntino nero c'è. Quindi un qualcosa che, insomma, tu devi risolvere, magari proprio sul lavoro, magari ci sono delle cose che non sono perfettamente come tu vorresti te, un qualcosa che dura un po' da tanto, che tu cerchi di ottenere. Però qui tu hai dei transiti, ragazzi. Allora, il parium c'è mai. Un tema natale, guarda com'è. Ci sono dodici segni zodiacali, dodici casa, altrettanti pianeti. Cioè, è impossibile l'allineamento perfetto che uno abbia tutti i tre. Non esiste nella vita. Ok? Quindi, diciamo, ci sono nella vita dei periodi molto favorevoli, e questo è uno di quelli, perché, insomma, qui tu hai dei transiti bellissimi, ora vedremo anche le carte, ma la perfezione, anche quando si cerca la persona amata, non esiste. Ma è matematico che non esista. Perché tutti questi pianeti che facciano simmetricamente trigoni, sestilie, senza andare a toccare, a fare una quadratura, è matematicamente impossibile. Questa è la vita. Eccola là. Va bene? Quindi, però, credimi, qui c'è una ripresa per il segno dei gemelli alluscinante. Io vedo fiorire la sicurezza in se stessi, che non è poco. Quindi la sicurezza, il desiderio, la passione di vivere, la passione nel vero senso della parola per qualcuno. Qui ci sono delle nuove conoscenze, o quelle che tu hai, tutte le coltivi le andranno sempre, sempre, sempre meglio. Qui c'è una venere in toro che non ti fa aspetti, nel senso è nel segno del toro, però neanche ti è nemica. Ed è una venere, come posso dire, forte, no? È in casa sua, è nel suo segno, quindi si esprimerà al meglio. Qui ci sono, c'è un qualcosa dentro di te che tu senti frizzare, tu senti che vuol venire fuori, non so, il desiderio di un cambio look, il desiderio di essere più bella, il desiderio... Qui, io non so che dici. Allora, andiamo a vedere anche le carte. Mese di maggio, per il segno dei gemelli. Qui tu hai dei transiti, i gemelli, stupendi nel mese di maggio, ma stupendi anche nel senso che ti aprono un'epoca, un'era bella, perché giove in gemelli, quindi ti ritroverai giove sul sole per un anno, eh? Non per un mese, quindi inizia a maggio e durerà per un anno, quindi sappilo sfruttare. Qui ci possono essere fortune, ok? Colpi di... ecco, colpi di fortuna, conoscenze, il lavoro... Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Andiamo a vedere qui... No, guarda, insomma! Guarda cosa sono le carte, accidenti! Aspettati un miracolo! Cioè, di cosa ti stavo parlando io, fin qua? È un quarto d'ora che ti sto dicendo, guarda, tu hai dei transiti bellissimi, plutone in acqua, allora, plutone è un pianeta sottovalutato, non se lo... nessuno, va bene? E invece ci guardo tanto a plutone, capito? Perché se tu hai anche tante cose belle intorno, ma non le vedi perché non stai bene, che te ne fai? Eh, quindi meglio un plutone che quattro giove, guarda che ti dico, comunque non importa, se tu sceglia tutte e due, sia plutone in trigono, sia giove in gemelli. Quindi, poi, Marte, Mercurio in Ariete, poi si va incontro, ancora ci vorrà del tempo, a Nettuno in Ariete, attenzione, allora liberi i gemelli! Cioè, qui tu va incontro a un periodo assolutamente positivo. Appena tu supererai questa quadratura di Saturno, va bene che ti può dare un pochino, insomma, sai, Saturno è sempre un pochino triste, un pochino, insomma, però, insomma, con tutto il resto, voglio dire, passa in secondo piano. Qui c'è un miracolo che accade per te. Guarda, qui c'è proprio un risveglio, un cambiamento, un qualcosa di assolutamente positivo che accade. Ora, con il volume 3, cosa dicono? Vediamo, maggio, mese di maggio, auguri ovviamente ai gemellini del mese di maggio, la fedeltà. Questa è una carta molto, molto bella, quindi qui tu va incontro, attenzione, qui tu va incontro ad un qualcosa di positivo, ad un miracolo, appunto, che non sarà passeggero. Quello che tu semini ora rimarrà in pianta stabile, quindi qui tu va incontro, guarda, gemelli, via, te lo dico più, se no poi dopo, ecco, tu mi credi, beh, no, lo so che tu mi credi, lo so, poi tu mi farai sapere. Vediamo i tarocchi, vediamo i tarocchi. cosa accadrà nel mese di maggio 2024 al segno zodiacale dei gemelli, vediamo, segno zodiacale dei gemelli, mese di maggio 2024. Oh che bella, la temperanza, come prima carta, il cavaliere di denari, temperanza, cavaliere di denari, ma il bagatto, zitta, zitta, arriviamo al fondo, l'otto di coppe, perfetto, e il sei di coppe, che è capovolto, vediamo anche il taglio, esattamente il quattro di coppe, che è uscito capovolto. Allora gemelli, qui mi confermano, se ce ne fosse, ma stavo bisogno, e non ce n'era di bisogno, ma loro me lo confermano, qui c'è un mese, assolutamente stupendo, tutto, e dico, tutto, tutto, volge al nuovo, qui c'è nuovo, 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 nuovo lavoro, nuovo amore, nuove amicizie, nuova confidenza in se stessi, nuovo tutto, ok? Qui letteralmente, se tu cercavi il lavoro, tu lo trovi, e te credo, con sti transito, non c'è verso, va bene? Se ovviamente tu sono studente, qui ci sono gli esami, che tu gli fassi così, cioè così, bisogna studiare, discusi, qui c'è anche l'applicazione, vedo applicarti, però, insomma, capisci, ecco, quindi, gli studi vanno bene, mi raccomando, guardati anche l'ascendente, e il segno della luna, queste tre cose, le devi mettere tutte insieme, vedere un po' cosa ti dico anche di là, però, insomma, poi, le previsioni settimanali, se mi vorrai seguire sul canale, ogni settimana, vedremo nei dettagli, ma il mese di maggio, è assolutamente favoloso, favoloso, quindi, sappilo sfruttare, nuovo lavoro, qui se tu lo scelchi, c'è il lavoro, io vedo l'amore, qui c'è una coppia, qui c'è una coppia, che potrebbe essere anche, anche, oltre a quello che ha detto, un'amicizia, quindi, qui ci sono anche dell'amicizia, un vedere gli amici, un uscire con gli amici, fare un qualcosa con gli amici, movimenti di denaro, se aspetti del denaro da tempo, questo arriva, ok, non è il denaro nuovo, questo, è secondo il mio modestissimo parere, poi se è nuovo va bene, però deve essere del denaro, secondo me, che tu, già hai accumulato, come dire, di cui ti hai già diritto, non so come meglio dire, poi bisogna vedere da dove arriva, comunque un'importa, quindi denaro, un incontro, comunque un affetto, una conoscenza, un qualcosa che c'è, nuove conoscenze che arriveranno, ecco, se non ti basta, ti tiro altre carte, va bene? Gemelli, potrò tu mi farà sapere, ovviamente qui ci sono comunicazioni che arrivano, ok, delle comunicazioni che arrivano, telefonate, iscritti, eccetera, poi abbiamo detto, ah, il lavoro, qui ti arriva una telefonata di lavoro, se tu hai qualcosa in ballo, cioè, che hai già mandato dei curriculum, hai già chiesto in giro, tu aspettavo una risposta, qui ti arriva, qui ti arriva, ok, c'è un esame superato, perché c'è poi quello, cioè, qui c'è di tutto un po', gemelli, queste sono carte belle, l'astrologia con l'oroscopo, ancora meglio, guarda, qui c'è anche il sole, ne vuoi ancora? Segno zodiacale dei gemelli, mese di, eh, magio, il giardino, cioè, il sole giardino, oh mamma, che ben di Dio, no, troppe, vi ne voglio una, una soltanto, ancora una carta, una carta per il segno zodiacale dei gemelli, mese di maggio, gemelli, maggio 2024, una carta, sole giardino e nuvole, ok, guarda, qui c'è sicuramente, mh, come ti posso dire, mh, ci sono degli incontri, mettendole tutte insieme, degli incontri, qui ci sono delle persone, ci può essere qualcuno, del tuo passato, che tu vedi, c'è, ecco, qui bisogna, non una tirata orecchi, però, insomma, magari per essere un gemelli, che il gemelli è brioso, è festoso, è gioio, è un bambino il gemelli, no, in cerca sempre di cuore, di nuove cose, qui magari, nonostante tutto, qui tu sono un pochino troppo isolato, magari tu dovresti uscire di più, cercare di vedere più gente, più persone, ok, però, insomma, ecco, il resto è tutto positivo, oracoli dell'amore, che non parlano solo d'amore, vediamo che dicono per i gemelli, colpo di fulmine, cosa ti ho detto, anche nuovi amori, nuove conoscenze, e qui le carte, insomma, ce lo stanno proprio confermando, va bene, colpo di fulmine, quindi un qualcuno, che sicuramente ci piacerà, su cui faremo colpo, andiamo a vedere, che è volare, che è volato, un si sa, lasciamo fare, segno zodiacale dei gemelli, mese di maggio 2024, desidera intimità fisica con te, capisci a me, ecco, quindi colpo di fulmine, una persona che ti desidera, proprio anche fisicamente, lasciare andare il bisogno di controllo, quindi qui non riesce a dimenticarti, infatti abbiamo visto un pochino, anche il passato, c'è un qualcuno anche, del nostro passato, a cui noi magari pensiamo ancora, visto quel Saturno dai pesci, eccetera, però qui c'è anche qualcuno di nuovo, ed effettivamente la concorrenza in amore, parla di più di una persona, qui c'è sia il vecchio che il nuovo, quindi sia una nuova conoscenza, un nuovo desiderio, un'attrazione fisica nuova con qualcuno, sia qualcuno che non riesce a dimenticarti, a cui magari anche se tu pensi ancora, so se mi spiego, vediamo un po' anche con quali segni zodiacali, tu avrai a che fare nel mese di maggio, allora qui è volato i gemelli, proprio come te, il toro, questo niente, i pesci, con quali segni zodiacali avrà a che fare, ecco, il, l'ariete, comunque qui ci sono anche dei soldini che arrivano, denaro, va bene, denaro, notizie riguardanti del denaro, e via dicendo, quindi anche da quel punto di vista lì ci sono movimenti, capricorno, questo niente, con quattro, sagittario l'abbiamo visto, no, mettiamo adesso, sagittario, con quali segni zodiacali avrà a che fare il gemelli nel mese di maggio, con l'acquario, toro lo abbiamo visto, lo confermiamo il toro, segno della vergine, ci fermiamo, o me ne danno ancora, vediamo un po', sagittario viene confermato, e la bilancia l'avevamo vista, no, l'aggiungiamo adesso, bilancia vergine toro gemelli ariete, sagittario capricorno, acquario pesci, poi tu mi farai sapere, ricordati di guardare l'ascendente, il segno in cui hai la luna, e poi se mi vorrai seguire ogni settimana, con le previsioni della settimana con i tarocchi, andremo a vedere insomma, tutti questi bellissimi avvenimenti, comunque il riassunto, eccolo qui, gemelli, aspetta tu un miralo, quindi, poi tu mi farai sapere, legioni e commenti, va bene? Io ti ringrazio, un abbraccione, un bacione, tutti noi qui di Penello per le sue carte, ti aspettiamo al prossimo video, ciao!